Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokemon Fire Ash, io sono Glacial Sphere ed oggi esploreremo Porto Algepoli, incontreremo probabilmente una vecchia conoscenza e forse se lo vedrete dal titolo andremo addirittura a catturare dei Pokemon leggendari, quindi non perdetevi questa parte, io vi ricordo subito di lasciare un bel mi piace, un commento e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti, tuffiamoci subito nel gioco e nell'episodio, abbiamo Corfish a livello 38, Torkoal al 39, Swellow al 38, Sceptile al 38 che si è voluto proprio nella scorsa parte direi di mettere per primo e Pikachu a livello 61 con Baskin è solamente un Pokemon che teniamo al momento ma appena otteneremo Snorant lo libereremo, o meglio lo lasceremo nel box, allora esploriamo Salve, non può credere che abbia perso la gara, suonano sarà così, sarà talmente deluso, mi spiace per tuo nonno, I was going to use this for my next battle, but I think I'm done with Jim Battles, questo basta, sarò tutte le balle di fare le sfide con la palestra e quindi le sfide con le palestre e ci da Focus Sash, che dovrebbe essere tipo, allora mi ricordo, non mi ricordo di preciso cosa, Focanastro ecco, Focanastro, non mi ricordo di preciso la traduzione italiana, è molto utile Focanastro, mi ricordo che è un modo per battere tipo Pokemon fortissimi già direttamente in prima generazione, salve marinaio, I wanted to buy all the cool items in the store, but I ended up buying ATM, I didn't need, questo voleva comprare l'ira di dio nel centro commerciale, ma alla fine ho comprato solo un ATM che non gli serve nemmeno, un genio si può dire ragazzi, e quindi ce la regala, Stone Edge, che è pietrataglio, vediamo se qualche nostro po' come un po' impararla, non dovrebbe essere male, allora andiamo a vedere Stone Edge, dovrebbe essere più, eccola qua, vediamo un po', eh, uh, Torqual, attenzione, attenzione Torqual, eh, attenzione, però Torqual è speciale, ricordiamocelo, se non sbaglio lui è un attaccante speciale, quindi, quindi no, quindi no, no, ho detto no caro gioco, grazie, quindi no, allora, controlliamo anche una cosa, perché è passato un po' di tempo da quando ho fatto l'ultimo episodio di Pokémon Farage, per voi è sempre passato un giorno, per me è passato un pochettino di tempo, quindi volevo andare a vedere un po', sì, ok, attacco e attacco speciale in realtà sono abbastanza lì, come, come mosse, anzi ha più di attacco lui, anche perché ha 18 IV in attacco, quindi non sarebbe male insegnargli pietrataglio, eh, però ha già terremoto comunque, vedremo, vedremo, qui abbiamo una bambina che gioca con il suo Pikachu, salve, vieni qui Pikachu, ora è dietro di te però, eh, mi spiace, salve il marinaio, I want a ride to Moss Deep City, but I can't beat the Captain, questo ci dice a casa, salve, I always wanted to sell items, is that strange, questo ha sempre voluto vendere oggetti, è così strano, beh, sei vestito come un tizio del Pokémon Market, effettivamente, salve, buonasera, there is a ship around here that will take you around Hoenn, tough is hard to please, eh, infatti, ci ha detto che questa barca ci porterebbe in giro per Hoenn, ma è davvero difficile da accontentare probabilmente il Capitano, Pokémon Contest, vediamo se qui troviamo qualcosa di utile, salve, questo ci insegna Magic Quad se lo vogliamo, nessuno dei nostri Pokémon può impararla, purtroppo, salve, tu sei vera? I won, I need a few more now, great job con Baskin, questa ha vinto e gli servono probabilmente solamente altri fiocchi, altri fiocchi per vincere, per finire, questa contenta che il suo Cubone sia felice, questo pensa, ha perso, ma pensa anche di meritarselo, e questa pensa di essere la migliore e lo proverà, attenzione, ci sfida così, dal nulla, la Pupa Kelly, attenzione, Lely Kelly, proprio lei, con Grampig, ok, allora, Grampig, andremo di Energy Ball, ah però, eh, che danno che gli abbiamo fatto, e poi direi di ricaricarci con Giga Drain, niente male, eh, niente male, il Grampig, ouch, eh, ouch, sì, alla faccia, ok, abbiamo fatto anche il contest, qui sulla spiaggia si può andare da sopra, quindi andiamo di qua, eccoci qui, ah, abbiamo un Pokémon Market, I managed to buy everything my boyfriend wanted, I hope he likes it, attenzione, un personaggio LGBT in Pokémon, cioè non ci sono dei personaggi LGBT nei Pokémon nuovi, che voi sappiate, perché non ne ho ancora approfonditi, giocati benissimo, quindi non saprei, allora, qui nel centro commerciale, se non sbaglio, c'è uno che ti insegna della roba, non è lei, questi vendono cose normalissime, lui però potrebbe, è appunto, ci insegna Super Power, che non è male, ok, Super Power, vediamo esattamente quanto fa, appunto, però abbassa l'attacco e la difesa del Pokémon, è buona da usare come mossa finale, no, e sapete che quasi quasi al posto di Sludge Bomb gliela metterei a lui, anche a Corfish in realtà non sarebbe male, però a Corfish ha già Breccia, e Breccia direi che va più che bene, mentre a questo Torkoal, io ho un Super Power, glielo butterei al posto di Sludge Bomb, che dite? Anche se mossa di tipo Lotta comunque ce l'abbiamo già, mentre mossa di tipo Veleno non tantissime, potrei insegnare Sludge Bomb magari a Sceptide, potrebbe impararla, allora, lasciamo un attimo qui Super Power, no, ha detto lasciamolo qui, grazie, e voglio vedere se il mio Sceptide può imparare Sludge Bomb, vediamo se la trovo subito, Sludge Bomb, vieni qui, eccola qua, che non sarebbe male per niente, no, non può impararla, peccato, potrebbe imparare a Corfish, ma Corfish va solo di attacco, Torquoal, però per adesso Torquoal va bene così, allora, loro non dovrebbero dire nulla, mentre voi dovreste vendere qualcosa di interessante, tu, forse sei tu, tutte le pietre evolutive, sapete che qui, a Dohen, trovate tutte le pietre evolutive che voi possiate mai immaginare, tutte, tranne l'Ice Stone, ok, manca solo l'Ice Stone, ma qui potete prendere tutte le pietre evolutive che volete e fare evolvere tutti i vostri Pokémon, cosa che magari farò off-screen, dovremmo aver finito anche di esplorare questo centro commerciale, sì, diciamo che la cosa più importante di questo centro commerciale sono le pietre, qui potete effettivamente comprare tutte le pietre evolutive fino alla quarta generazione, se non sbaglio, come Shiny Stone quelle cose lì, che sono niente male, allora, a questo punto andiamo dalla spiaggia, qui abbiamo altre due casette, salve, salve, ok, va bene, oh, attenzione, cos'è questa stanza così figa, cioè lui c'è detto comunque uno che vinceva le gare, sopra quindi ha probabilmente messo tutti i suoi vecchi trofei, e poi ha detto che ha lasciato, ha passato il testimone a suo figlio, if you like a cool judge, the intriguing potential of your Pokémon 9hand, tanto quali via e dv possiamo già vederli, salve, ero assalto, lui potrebbe insegnare ero assalto, ma nessuno lo ascolta, no, poverino, questa città, actually has a lot going for it, despite not having a gym, oh, you went to a gym Battletofe, questa città comunque ha tante cose, anche se non ha una palestra, giustamente, questo è invece il giudice onomastico, non ci interessa, e qui possiamo trovare delle heart scale nei sassi, se non sbaglio ce ne sono tre, eccola qua, e l'ultima dovrebbe essere questo, ecco fatto, trovate tre heart scale, non vedo perché non prenderle, sono qui, ok, credo che abbiamo finito di esplorare Porto Algepoli, e a questo punto possiamo andare a battere il capitano, per passare dall'altra parte, aspettate qui c'era ancora qualcosina, salve, I built this lighthouse a long time ago, the memories always come back when I see it, che lui ha costruito questo faro molto tempo fa, e quando lo guarda, i ricordi affiorano, riaffiorano nella memoria, I just love it out there, ok, questo ragazzo adora stare qui, e questo ama il mare, perfetto, a questo punto, andiamo a sfidare il capitano, spero che abbia dei pokemon di tipo acqua, io ho messo davanti Sceptile proprio per questo, cosa vorreste andare a Most Deep City? Beh, devi essere abbastanza bravo da battermi, ci riuscirai? Ma assolutamente sì capitano, capitano Eldritch, che va nel campo Gorbis, giustamente va a pokemon di tipo acqua, allora, una bella energy ball e il tuo Gorbis dovrebbe andare, addio, ok, Sceptile arriva alla 39, sì Leo, ecco sì Leo, è anche tipo ghiaccio se non sbaglio, quindi, va bene, niente, lasciamo lui, lasciamo comunque Sceptile, andiamo di Gigadrain, e addio, Sfileo, curiamoci anche un po', ed infine Dragonair, attenzione, Dragonair, noi non dovremmo avere mostre di tipo Drago, vero? Perché a Sceptile non gli avevamo insegnato dopo il colpo, quindi senza mostre di tipo Drago, contro Dragonair, senza mostre di tipo Ghiaccio anche, faccio anche mando Torqual, effettivamente ci mancano anche le mostre di tipo Ghiaccio, e ci manca Snorant, Snorant sarebbe l'ideale, che poi si evolverà in Gleallia, ci manca lui per avere una squadra più vibrata, andiamo di Heartquake, uh, Aquatail, non ci fa molto perché aveva una difesa altissima, come vedete, e in più abbiamo anche messo Lasticità, che diminuisce le mostre di, la potenza delle mostre di tipo Acqua, ed infine andiamo di Body Slam, ah, c'è usato Rui Slam, va bene, e noi rispondiamo con un Body Slam, ottimo, well, 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 I guess you're good enough, bene, prima di andare a Most Deep, andiamo a darci una curata veloce ai Pokémon, giusto per Icaricare in KPP, perché ragazzi attenti, fatelo anche voi, ci aspettano, una bella bacia, ci aspettano un bel po' di battaglie, tra l'altro quella tipa per teletrasportarci usa Magnemite, va bene, quella tipa lì la vedete nell'angolo, ok, andiamo quindi a prendere il traghetto per Most Deep City, vai. Azz, non mi sembra Most Deep City questa, ehi tu, what? It's not easy when I get in Greasewaters, I can head back, but I'll need time to figure out the Puff ahead, praticamente ci ha detto che non è facile navigare in queste acque, quindi vi serve tempo per capire dove deve andare, e nel frattempo noi, guardate chi troviamo lì, Lance, prima però possiamo andare qui e battere questi allenatori. Gorebis is better, ok, quindi immagino che tu abbia Gorebis, un Gorebis che ci farà fare un bel po' di punti esperienze a Septile in maniera gratuita, usando un Energy Ball, ottimo, Septile è attualmente il nostro Pokémon più forte di Owen, poi penso ci sia Torquoal, Glalie quando lo prenderemo, molto probabilmente Glalie diventerà bello forte, mentre lui ha Huntail, andiamo ancora di Energy Ball, perfetto, Right, sì, e tu chi hai Clamperl? No, Time to Train, vediamo eh, vediamo chi hai tu, tu hai due Pokémon, hai Walrein, ok, Walrein non è niente male, andiamo ancora di Energy Ball, sperando di shottarlo, da di pochissimo Ice Ball, infame, andiamo di Comete, e addio, buono, ed infine, lui manda Quagsire, tipo acqua-terra, lasciamo Septile, e usiamo un bel Giga Drain, per curarci, danno 4x, e addio, va, una bella cura, fill the power, sì sì, fill the power, ed ora possiamo andare da Lance, salve Lance, Glacial, tempismo perfetto, l'ultima volta che ci siamo incontrati stavamo lavorando insieme per battere il Team Rocket, beh, questa volta ci sono due Team Malvage, ne posso sconfiggere uno per conto mio, ma devo affidare l'altro a te, vuoi il Team Magma o il Team Acqua? Io andrò sul Team Acqua, voi scrivetemi invece chi avete scelto o chi scegliereste voi? Io andrò a battere il Team Acqua perché è il team che mi piace di più affrontare, ed anche perché ho Septile, che rende la cosa un po' più facile non rovinare questo. Attenzione, qui abbiamo sia il Team Magma che il Team Acqua, tutti e due insieme, che stanno facendo roba. Secondo voi cosa stanno facendo? Molto probabilmente l'avrò scritto nel titolo, però avete già capito cosa stanno facendo loro, no? Anzi, ve lo ricorderete addirittura. World Rain, proviamo a cambiare Pokémon contro World Rain, e no, ma è inutile, è inutile, lasciamo comunque Septile, lasciamo comunque Septile e andiamo di Energy Ball di nuovo, potremmo shottarlo, buono, 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 livello 41 per Septile, oh, eh sì, proprio, vai, stay out of the way, tra l'altro lì sopra li vedete ragazzi, no? Li vedete lì nell'angolo, lì, a destra, i leggendari. Ah, onna ragazzi, Team Acqua, ma andai in campo, meglio Team Acqua Max, ma andai in campo il World Rain, che si prende un altro Energy Ball in faccia. Perfetto. Poi, un altro World Rain, eh, quindi un'altra Energy Ball, mi spiace. Eh, sono tutte per te le Energy Ball, World Rain. Proprio te le pappe tutte in bocca. Perfetto, Darnit, eh sì, Darnit, andiamo a sconfiggere la terza recluta. Il mare è tutto, ci dice. Oh, eh, sono punti di vista. Io preferisco la montagna al mare. Punto di vista, appunto. Allora, contro Crowdant, andiamo lì. No, volevo fare Giga Drain per risparmiare Energy Ball, mi sono confuso con i tasti. Vabbè. Ehm, vorremmo imparare Leaf Blade, attenzione. Però ne abbiamo visto che Septide è un Pokémon che va di attacco speciale, anche se Leaf Blade sapete che non è per niente male. 90 di potenza, fisico. Al posto magari di Giga Drain, tanto abbiamo Energy Ball in caso. Non dovrebbe essere per niente male. Cioè, anzi, Leaf Blade è proprio la mossa tipica di Grovile e Septile. E in più critta anche di più. Sapete quasi così di Togo Shift? Dai, togliamo gli Shift per ora. E' che Leaf Blade voglio insegnargli, ragazzi. La Leaf Blade è bellissima. Usiamo Leaf Blade, vediamo quanto ranno fa. Niente male. Niente male. No, e invece sì. Voglio dare un'occhiata alle statistiche di Septile perché non le ho controllate dopo la sua evoluzione. Vabbè, come vedete ho un attacco comunque molto buono. Quindi ci sta insieme a Leaf Blade. Ci sta tantissimo. Perfetto, proseguiamo. Salve. You are too late. Sei servato in ritardo, ci dice Shelly. L'abbiamo già affrontata Shelly in uno degli episodi precedenti. È quello dell'Istituto Method. Se non siete persi, andatelo a vederlo. Chiocre è sveglio e sta allagando la terra. Il nostro capo Archie ha fatto il suo dovere. Now, ora. Il mio dovere è quello di fermarti. Va bene. Vediamo se sconfiggeremo anche Archie qui, oppure sarà più avanti. Carvagna. E contro Carvagna noi usiamo un semplice Gigadrain, anche per non toccarlo perché sicuramente ha carta vetro come abilità che ci danneggerebbe. Poi chi mandi? Wall Rain. Contro Wall Rain andiamo invece di Leaf Blade che abbiamo visto prima essere molto efficace. Ah, resiste, eh? A questo punto ha altro Gigadrain. Buono. Ecco, curati di un PS. Poi Crowdant, lasciamo il nostro Septide e andiamo a Gigadrain. Zero difesa speciale, Crowdant e ci saluta. Perfetto. In più ci cura e ci fa salire a livello 43. Già finito Shelly? Questo non può essere possibile. E invece sì, mi spiace. Qui sotto abbiamo il Lance. Abbiamo i Lance che sta tenendo occupati il team Aqua con il suo Garibas rosso e con Dragonite. Va che bello. E noi, ovviamente, salviamo davanti ai Pokemon leggendari. Perché sì, proveremo a catturarli. Ora, in questa puntata. Allora, strategia per questi leggendari. Groudon penso sia di tipo terra, se non ricordo male. E quindi non potremmo paralizzarlo con Pikachu. Torqual contro Groudon non penso che possa fare una bella fine. ma Suello magari sì. Suello potrebbe tankarsela un bel po'. Allora, eh. Cosa potremmo fare contro Groudon? Non abbiamo modo di... Non abbiamo modo di diminuire la precisione, vero? Perché non abbiamo mosse che diminuiscono la precisione. Abbiamo tutte mosse di danno, mannaggia a me. Abbiamo Pikachu con Nazzolo. Quello è perfetto. Però nessuna mossa che diminuisca la precisione. Allora, proviamo a mandare prima di tutto Pikachu. Anche se Groudon penso abbia terremoto. E vedere come va. Vai. Magari abbiamo culo e lo catturiamo subito, eh. Chi lo sa. Eccolo qui, Groudon. Che appare. Ok, ha messo siccità. Va bene. Allora, Nazzolo non dovrebbe avere effetto, giusto? Esatto? Non effetto. E lui ci diminuisce la velocità. Noi però andiamo lì a Brick Break, però gli facciamo troppo male, mi sa. Proviamo comunque con Brick Break. Ah, l'attacco e la difesa aumentano. Ok, non dovremmo shottarlo allora. Perfetto. Altro Brick Break. Oh, il terremoto, eh. Il terremotino. Proviamo a catturarlo ora. Tiriamogli una catturina. E anzi, preserviamo Pikachu per Groudon. Cambiamo subito Pokémon. E mandiamo su Hello. Cambiamo subito Pokémon e mandiamo su Hello. Bull Cup. Va bene. Lui si aumenta attacco e difesa. Va benissimo. Anche perché adesso ti usa un bel aerossalto. Così almeno non ti faccia troppo danno. E ora proviamo a catturarlo. Allora, Groudon è molto pesante, quindi in teoria le Heavy Ball sono molto buone. Proviamo. Vita rossa Heavy Ball. Vediamo se riusciamo a prenderlo, eh. Vediamo, vediamo, vediamo. No, è già uscito. Peccato. Heartquake ovviamente non è effetto solo di noi. Proviamo con un'altra Heavy Ball. Vediamo, eh. In teoria dovrebbe essere molto efficace, però non sembra... non sembra riuscire a catturarlo. Andiamo ancora di Heavy Ball. Niente, esce addirittura subito. E lui continua ad aumentarsi attacco e difesa. Mannaggia lui. Eh, proviamo con qualche Ultra Ball allora. Comunque vita rossa, eh. Cioè, non voglio dire, però. Vita rossa. Ah. Niente, esce. Heartquake. Vai, altra Ultra Ball. Tra l'altro lui se non sbaglia dovrebbe avere anche riposo. Ah, tra l'altro tutte mosse tipo terra, quindi non farà mai niente al mio suo Hello. Ottimo cos'è. Proviamo a tirare un po' di Poké Ball addosso, va. Facciamo passare i turni, in caso poi useremo le Timer Ball. Non voglio sprecare tutte però le mie Heavy Ball su Groudon. Anche perché costano? Parecchio. Ohoho! Preso con la Mega Ball. Perfetto. Groudon è stato catturato ed aggiunto al Pokédex. Eccolo qui. È il primo è andato. Ora, diamo una curatina al nostro Pikachu. Usiamo pure le pozioni, va bene, sì. Ecco, fatto. Salviamo, ovviamente. Save. E andiamo contro Chiogre. Vai. Raccontatemi quanto ci avete messo voi a catturare Groudon e Chiogre nei vostri giochi Rubino Zaffiro Smeraldo, oppure addirittura Rubino Omega e Zaffiro Alpha. Nazzle non dovrebbe shottarlo. Perfetto. E lo paralizza pure. Ottimo. Ed è paralizzato e non si può muovere. Raga, faccia la cattura al primo colpo? Dai, faccia la cattura al primo colpo? Dov'è la Heavy Ball? Proviamo. Paralizzato, vita rossa e pesante. Dai. Al primo colpo? No, nemmeno un T come ha fatto al primo colpo. Ah, tra l'altro il Muddy Water. Ok. Quello farebbe male nel Pikachu se venisse preso. Andiamo di un altro Heavy Ball. Vediamo se riusciamo a prenderli, eh. Niente da fare, mannaggia lui. Eh, Muddy Water infatti mi ha fatto malissimo. Continuiamo a lasciarli in campo Pikachu e tiriamo un'altra Heavy Ball. Ah, che ti uso le Megaball altrimenti, eh. Ah, si è cagato sotto. Cioè, le Megaball l'ha fatto cagare sotto, è entrato subito? Perfetto. Abbiamo preso anche Chiogre. Eccolo qui. Oh, presi entrambi. Quindi ce l'è fatta, dice Lance. Quei Pokémon non causeranno più danni molto presto. Così come il Team Magma il Team Magma e il Team Acqua. Penso che sia l'ultima volta che li vedremo. Con i loro piani hanno rovinato. Eh, their plans ruined and they should be finished. Con i loro piani rovinati, eh, questo dovrebbe essere finito. Perfetto. Abbiamo quindi catturato anche Chiogre e Graudon. E possiamo tornare a questo punto. Penso che lui ci porti a Mostrip City. Vedi? Ho trovato il modo di proseguire. Dove sta andando? Ah, Mostrip ovviamente. Eccoci. Eccoci qui. Prossima città dove affronteremo una palestra, ma per questo episodio ovviamente ci fermiamo qui. Abbiamo fatto davvero una marea di roba. E voglio guardare i miei nuovi Pokémon ovviamente. Voglio dare un'occhiata a questi due leggendari. Avere la soddisfazione di metterli nel loro posto, nel Livindex. Eccolo qui, Graudon. Attacco 112, difesa 116. Cioè fisicamente questo tio, questo tio è un boss incredibile. Ovviamente siccità come abilità. E lui aveva viso truce. Ah, non aveva riposo allora. A quanto pare, voglio dire, un tot ce l'aveva magari nelle versioni precedenti. Heart Power, che è speciale. Bull Cup e Heart Quake, che è fisica. Fortissimo. Andiamo a metterlo. 383 come posto. Al 90, 84, 83. E andiamo a prendere anche Kaiogre o Chiogre. Eccolo qui. Lui invece è molto specializzato nelle statistiche speciali. 110 di attacco speciale, 108 di difesa speciale. Tra l'altro 110 di attacco speciale con 0 EV. Perfetto. Anche lui ha viso truce. Aquatail, che è, che è, come si chiama? Ah, non mi viene il nome in italiano. Peccato. Calm Mind e Muddy Water. Lui lo andiamo a mettere al suo posto. Eccolo qui. Non ho visto che numero era di preciso. 82, quindi prima di Chiogre. Vai. Cioè prima di Groudon. Eccoli qui. Chiogre e Groudon. Mancano Rayquaza e Giraki. Oltre a Latios e Latias. Beh, ci mancano ancora tutti i leggendari, praticamente. Però, due di loro ne abbiamo già presi. Perfetto. Guardate anche il Livindex, che ovviamente piano piano si popola. Non è cambiato molto rispetto all'ultimo episodio, a parte appunto questi Slakoth, che abbiamo catturato, Guardia War, che ho messo qui. Per il resto manca ancora parecchio a questo Livindex completo. Comunque, usciamo da qui. Ecco fatto. E per questo episodio in cui abbiamo catturato Chiogre e Groudon, abbiamo fermato il team Agma e il team Acqua, il team Idro, chiamatelo un po', come volete. E abbiamo di nuovo fatto copia con Lance. È tutto. Io vi ringrazio per aver seguito questo episodio, vi ricordo di lasciare un bel mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare ed iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Spear è tutto. Al prossimo video.